Gentili telespettatori, buona giornata. Depositata in procura l'informativa su Piero Fassino. Adesso che cosa succederà? Sapete, Piero Fassino, siamo rimasti tutti a bocca aperta. Secondo quello che dicono i giornali, tre volte avrebbe tentato di rubare, alla prima volta ci sarebbe riuscito, le altre due ha dovuto pagare in un caso, nell'altro è denunciato. Ecco, Piero Fassino che tre volte ha tentato e una volta ci è riuscito a rubare profumi nello stesso duty free dell'aeroporto di Fiumicino. Una cosa un po' strana, no? Secondo me c'è qualcosa che non va, ma non nella storia, c'è qualcosa che non va in lui, perché mi sembra davvero qualcosa di molto, ma molto strano. Infatti poi vi dirò quello che dice Renzi, che lo conosce benissimo. I poliziotti di Fiumicino, la Polaria, hanno depositato negli uffici della Procura della Repubblica di Civitavecchia l'informativa nella quale si ricostruisce l'episodio del furto di una confezione di profumo da parte di Piero Fassino, deputato del PD, ex ministro, ex segretario dei DS, in un negozio del duty free di Fiumicino. E' costata una denuncia. Ha legato all'incartamento anche il video di quanto avvenuto il 15 aprile scorso nello scalo della Capitale. Nei giorni scorsi è emerso che dal racconto di alcuni dipendenti del negozio, Fassino sarebbe stato autore già di un tentativo di furto. Almeno uno. Spetterà ora i PM decidere come procedere e se affidare delega alla Polizia Giudiziaria per svolgere ulteriori approfondimenti. Poi faranno le indagini i giudici, appunto delle indagini preliminari e poi vedranno se iscrivere nel registro degli indagati Fassino oppure no. Chiudere tutto perché il fatto è tenue. Per me non è tenue, però potrebbe essere chiuso. Uno sconosciuto andrebbe a processo, Fassino magari il fatto è tenue. E vabbè, sappiamo come funziona in politica in Italia e sappiamo che se sei di una certa parte politica è molto probabile che ti vadano bene questo tipo di cose. Comunque a questo punto il giudice per le indagini preliminari, come vi dicevo, deciderà se iscrivere Piero Fassino nel registro degli indagati oppure chiudere perché il fatto non sussiste. Questo incartamento passa al GUP, giudice udienze preliminari, che farà un interrogatorio preliminare. Dopo aver sentito le parti in causa, il GUP, giudice udienze preliminari, deciderà anche lui se chiudere tutto perché i fatti non sussistono o sono di entità così lieve da non permettere un processo oppure ci sarà il rinvio a giudizio dove ufficialmente si apre il processo e lì poi ci sarà un altro giudice ancora, un terzo giudice che sarà quello che poi dovrà giudicare Piero Fassino. Eventualmente si dovesse arrivare a quel punto. Intanto in una trasmissione televisiva c'è Matteo Renzi, leader d'Italia Viva. Siamo da del debbio a dritto e rovescio. E Renzi dice, io non faccio processi sui giornali. Se davvero le cose stanno così come vengono raccontate, cioè che in più di una circostanza c'è stata quella vicenda lì, credo che Piero Fassino debba essere aiutato da qualcuno che gli vuole bene perché sono molto preoccupato per lui. Dice, non è il Piero Fassino che conoscevamo, io spero che non sia vero, però se le cose stanno così mi viene da dire chi gli vuole bene lo aiuti perché sono cose evidentemente segno di una malattia altrimenti non me la spiego perché tutto può succedere, non è il Piero Fassino che conoscevamo noi spero siano tutte finzioni. Eh sì, sembra assolutamente incredibile, ma a parte che poi quello non vuol dire nulla in tanti casi è uno che porta a casa da 10 a 15 mila euro da decenni, da decenni e poi ci sono stati momenti dove era anche ministro e prendeva uno stipendio molto più alto quindi è una persona che da decenni si porta a casa 10 a 15 mila euro al mese andare a rubare al duty free un profumo può anche essere la soddisfazione di non pagare 130 euro di avere una roba rubata gratis una volta ma dopo che, come dicono i testimoni, lo hanno beccato che rubava ma lui si è dileguato è scappato, è sparito dentro l'aeroporto dopo che ti hanno inseguito la prima volta e tu sei scappato con le telecamere che ti hanno ripreso e tutto, ti hanno identificato quelle del duty free infatti la seconda volta ti hanno tenuto sotto controllo e ti hanno beccato però, dato che la prima volta ti hanno rincorso e sei riuscito a scappare che fai dopo 10 o 15 giorni? vai di nuovo nello stesso posto a cercare di rubare un altro profumo? questo non ha nessun senso il ladro che torna a rubare una seconda volta nel posto dove l'avevano rincorso lo beccano lui paga e poi dopo 15 giorni per la terza volta torna a rubare nello stesso posto? come dice Renzi non me lo spiego cioè a neanch'io riesco con tutta la buona volontà non c'è una spiegazione l'unica cosa che si può dire è che probabilmente come dice Renzi se tutto fosse vero bisogna aiutarlo perché ha un problema serio lì si parla di malattie di un certo tipo tipo cleptomanie ma con risvolti molto gravi nel senso che se si parla di cleptomania ad un livello abbastanza perché andare tre volte nello stesso posto non è normale se tu sei uno che ruba e ti hanno beccato la seconda volta che tu, visto che passi in quell'aeroporto tutte le settimane quando ci passi davanti, ci giri lontano ti metti un cappello cioè dalla vergogna dopo che ti hanno inseguito non ti hanno preso hanno i filmati e sanno chi sei e le altre volte ti controllano capite che avrebbe dovuto passare rasente al muro opposto guardando le vetrine senza farsi più vedere invece no vai dritto dentro Beauty Duty Free a di nuovo prenderti un profumo capite che non ha senso cioè non è con tutta la cosa di uno che ruba ma non è spiegabile neanche sotto alcuni aspetti davvero non c'è una spiegazione logica di uno che per tre volte va a rubare nello stesso posto quindi se le cose sono vere e sembra proprio che lo siano c'è qualcosa che gli è partito gli è partita una valvola perché sicuramente c'è qualcosa che non va più in lui arrivederci a tutti e grazie grazie